Vittorio Bocchetti, siamo alle solite, un'altra sconfitta, un'altra prestazione a nostro avviso insufficiente che ne dica il tecnico Grassadonia. Passano le giornate però la situazione resta sempre molto più difficile. Quella di oggi, lo avevate detto anche voi, era una gara quasi da dentro fuori. A questo punto questa sconfitta sa quasi di resa per il Pescara. Vedendo la partita che abbiamo affrontato oggi, onestamente, ci ha lasciato veramente perplessi. Anzi, siamo stati poco incisivi, poco cattivi, poco nervosi, poco tutto. Per vincere la partita abbiamo bisogno di altre cose. Per vincere la partita abbiamo bisogno di compattezza, di nervosismo, di vincere i duelli. Oggi veramente abbiamo fatto pochissimo per riuscire a vincere la partita. Questo atteggiamento qua non può essere sufficiente per la salvezza, assolutamente no. Parole di Antonio Bocchetti che sono diverse nella sostanza e non nella forma da quelle del tecnico Grassadonia che giustamente deve anche preservare il gruppo. Però oggi ci si aspettava di vedere un altro Pescara. Ma quali possono essere i motivi di una squadra così svuotata, così arrendevole? Sicuramente la sconfitta di Ascoli non è che ci ha lasciato bene. Anzi, la sconfitta di Ascoli è stata pesante, pesantissima per tutti. Però pensavamo che, onestamente, qui si venisse a fare un altro tipo di partita. Questo non è stato. Dobbiamo assolutamente cambiare registro, cambiare ritmo. In fretta, molto in fretta. Abbiamo dieci giorni per lavorare, per ricaricarci un'altra volta. Noi ci crediamo sempre, però in questo momento qua ci devono credere molto i calciatori perché poi vanno loro in campo e sono loro che determinano i risultati. Se andiamo con questo spirito, andiamo veramente da nessuna parte. Nella tribuna però è sembrato che la squadra quasi non creda più all'obiettivo salvezza, comunque play-out. Soprattutto dopo il gol che hanno fatto loro, veramente, non c'è stata reazione, tranne quando poi abbiamo cambiato un pochettino di giocatori. Ma è stato più un fatto di inerzia che un fatto emotivo, onestamente. Non c'è stata nessuna reazione emotiva, tranne l'1-2 che hanno fatto Vokic e De Sena. Penso che De Sena abbia avuto le uniche palle goal del match. Uno è il primo tempo importante per riuscire a vincere, andare in vantaggio e l'altro per pareggiarla. Veramente pochissimo per riuscire a vincere qui a Vicenza con una squadra che comunque a livello nervoso c'è stata, si è vista dal primo minuto. Proprio De Sena, De Sena che è sembrato l'unico a crederci fino alla fine, insieme a Gutt. Sono questi gli unici due giocatori, a mio avviso, Bocchetti, che oggi, anche oggi, hanno dimostrato di credere nel Pescara e di onorare questa maglia. Ci vorrebbero 11 De Sena nel Pescara, 11 Gutt. Ma non è che il fatto che De Sena ci crede di più o Gutt ci crede di più. Gutt è un ragazzo che è normale che a livello emotivo qualche giocatore che sta qui da più anni è normale che lo soffre. Ma perché? Perché la situazione non è bellissima per nessuno, soprattutto per chi qui ha fatto tanti anni. Non è semplice perché si sente troppo la responsabilità addosso in un momento critico. Però bisogna recuperarli, questi giocatori, perché sono quelli che comunque ci possono permettere di salvarci. Quindi è normale che in una partita dove ci sono due giocatori che alzano un pochettino l'asticella, noi abbiamo bisogno che tutti quanti alzino l'asticella in questo momento qua. Ma no perché la squadra non ci crede, anzi, i giocatori in allenamento si allenano molto bene, sono molto presenti. È normale che poi in partita, per un episodio o per un altro, viene a mancare tutto quello che si è fatto in settimana. Soprattutto quello che dice l'allenatore, quello di alzarci, quello di andare a vincere duelli, di giocare un pochettino più su uno contro uno. È normale che la prima difficoltà abbassi col baricentro e ci vogliono troppi mete per andare in avanti. Non sarebbe il caso, Bocchetti, di dare spazio a qualche giocatore che ha giocato poco e che probabilmente ha qualcosa da dare in più rispetto a questi giocatori che soffrono così tanto la pressione emotiva di non riuscire invece a fare quello che poi vorrebbero, quello che poi invece riescono a fare durante la settimana. È normale, uno cerca di mettere i migliori giocatori in campo per quelle che sono le caratteristiche, un pochettino di peso specifico nello spogliatoio, di passato, perché noi abbiamo bisogno pure di esperienze di passato. Queste partite qua le vincono soprattutto persone che in questo momento qua l'hanno giocate le partite. Un po' di spensieratezza può andare bene, ma non è una questione di uomini, è una questione di squadra. Ne abbiamo bisogno di una squadra che prima cosa onori una regione, una città e onorano una squadra di calcio che il Pescara che è gloriosissima. Quindi abbiamo bisogno un pochettino di alzare qualcosa in più per cercare di centrare questa salvezza. C'è un caso Macin nel Pescara perché questo giocatore è stato preso a gennaio per cercare di far fare il salto di qualità a questa squadra, ma continua a non giocare. Poco prima, poco fa, Grassadoni ha detto in conferenza stampa che in questo momento gli preferisco altri calciatori. Però Macin è probabilmente quel giocatore che tecnicamente potrebbe fare qualcosa per elevare questa squadra e invece non gioca praticamente mai dall'inizio. È normale che ci vogliono degli equilibri per affrontare le partite. Macin è un giocatore rettamente offensivo. Oggi, come in altre partite, andare ad affrontare delle squadre dove ti attaccano, dove mentalmente sono in fiducia, bisogna prima cercare comunque di avere un equilibrio tattico. È normale che Macin è un giocatore che ti può spostare gli equilibri, ma va messo in condizioni di farlo. A questo punto c'è la sosta, ci sarà un po' di tempo per lavorare con un po' più di tranquillità, poi ci sarà la gara con il Pisa. Tranquillità per modo di dire? Tranquillità no, perché siamo ancora più tranquilli come oggi, onestamente, è meglio che andiamo a casa tutti quanti. Tranquillità nel senso che non si giocherà, ci sarà un po' più di tempo forse per preparare questa partita. Mi vuole un po' più di tempo per preparare comunque i giocatori che in questo momento qua hanno lavorato poco, giocatori che vengono da infortuni e recuperare più possibili giocatori che in questo momento qua sono fuori forma. Squadra che tornerà, diceva Grassadona, per chiudere Bocchetti ad allenarsi lunedì, insomma, sarà importante recuperare anche fisicamente qualche calciatore che non è al meglio della condizione? Questo ci permette di lavorare perché nell'ultimo tempo abbiamo lavorato veramente poco, quindi questo permette di lavorare all'allenatore con i giocatori che in questo momento ho caudalizzato poco e giocatori che abbiamo fatto giocare con forzati come S3R e altri giocatori. Dal proposito, Gutt, che è uscito nel finale per un problema fisico, quali sono le sue condizioni? No, è stata una brutta botta, quindi il ragazzo è uscito con un mallor alla capiglia.